La crisi economica sta colpendo duramente le famiglie italiane, impegnando fortemente le società di recupero crediti. Adiconsum ha siglato con Unirec l'associazione che le riunisce un accordo bilaterale, ma il comparto ha bisogno di nuove regole. Ne abbiamo parlato con Antonio Persici, presidente di Unirec. Che cosa lamentano gli operatori del recupero crediti? Dal punto di vista degli operatori noi lamentiamo fortemente una mancanza di una normativa, siamo soggetti all'articolo 115 del TULPS che è del 1931, una norma che non norma nulla e abbiamo bisogno assolutamente di una riforma sia per tutelare la nostra professionalità ma anche per tutelare i consumatori e i creditori affinché non ci sia un'azienda che con una semplice richiesta di autorizzazione alla questura possa svolgere senza nessuna preparazione e senza nessuna garanzia la nostra attività. Noi chiediamo che ci sia una legge che imponga una professionalità, che imponga le certificazioni. Abbiamo ultimamente costituito insieme a Dati Consume l'ente bilaterale per la tutela del credito dove noi stiamo insieme portando al legislatore, abbiamo messo insieme a Dati Consume e ad Assofin delle regole, un testo per una proposta di legge che sono di tutela per tutte le parti perché l'unico modo per riconciliare da una parte e dall'altra credite e debitori è quello di trovare delle buone regole che salvaguardino diritti e doveri entrambi.